Allora per BC Sport e qui BC Sport, vigilia di Paris-Giroubaix, Matteo Trentin. Matteo, sarà la tua decima, ma un ricordo della prima ce l'hai? La prima sì, perché come mio primo fiandre vinse Bonen, quindi sicuramente fu un gran bel battesimo. Quella gara lì non l'avevo finita alla fine, perché ho voluto tirare tutta la prima parte. Mi ricordo ancora che a camminare verso il bus sembrava che qualcuno mette si abbastonate, però era stata una bellissima esperienza. Che posto ha la Paris-Giroubaix nella tua lista tra le gare preferite? Non è proprio nelle mie gare preferite, però è una gara speciale, quindi bisogna arrivare e onorarla al meglio. Quindi sei d'accordo anche con le parole di Filippo Ganna, che all'equip ha detto che è una corsa che fa schifo? No, fa schifo no, è una corsa molto particolare, dove il non avere inconvenienti è una parte fondamentale. Poi guardiamo i grandi campioni, i inconvenienti non li hanno mai avuti, quindi bisogna un attimino partire belli convinti e fare il meglio possibile. Senti, cosa hai imparato in dieci anni di fare il Giroubaix? Che è una gara che sicuramente non bisogna mai mollare. L'anno scorso per esempio io sono entrato ad Arenberg, mi è caduta la catena incastrandosi nel telaio, tutto un casino, ero dietro. Sono rientrato davanti e ancora ero nel primo gruppo. Poi vabbè ho bucato e lì mi sa che ho mollato, perché purtroppo la macchina era lontanissima e quindi avanti che ho cambiato la ruota ormai la corsa era finita. Però tante volte è una corsa con mille storie, ognuno ha la sua storiella da raccontare alla fine della rugby. Senti, ce l'hai un po' al dente avvelenato dall'anno scorso? Sì e no, alla fine come ho detto mi era capitato un inconveniente prima, sono rientrato e il bucare purtroppo fa parte degli inconvenienti più comuni della rugby, quindi è andata così e basta. Senti, se tutto va come deve andare, intendo a livello di fortuna, a che appiazzamento puoi ambire domani? Non lo so, le gambe sono buone, bisogna giocarsi diciamo il meglio dalle possibilità che si presenteranno. Senti, ultimissima domanda, un nome secco o il favorito? Secco, mi gioco Lampard. Perfetto, grazie e un bocca al lupo. Prego, ciao.